Siamo qui dalla libreria pagina 18 a Storonno per parlare con Giorgio Fontana del suo libro Morte di un uomo felice che fa parte di un vittico ideale, l'hai definito, con il libro precedente sempre con un persellerio che si intitola Per legge superiore. E questo di cosa parla? Morte di un uomo felice è la storia intrecciata di un magistrato negli anni del terrorismo a Milano e del padre invece che era un partigiano nel Saronnese, a Saronno, nel dettaglio appunto e anche poi il magistrato ritorna spesso in provincia qua dove vive. Per scrivere questo libro poi mi sono documentato moltissimo sulle questioni territoriali legate appunto alla città dove poi io sono nato, Saronno, e cercando anche di ridare una dignità letteraria un po' al dialetto parlato localmente. Ciao, ho esaurito quasi tutte le domande che volevo farti, però soffermiamoci un po' di più sul lavoro di documentazione, sia sul periodo storico che non hai vissuto ovviamente personalmente sia su una Milano che tu descrivi di fine anni 70, inizio anni 80, ma che è in fondo una Milano che tu frequenti regolarmente oggi. Naturalmente nello scrivere un libro del genere ho dovuto documentarmi con la massima attenzione per entrambi i periodi storici, quindi ho fatto lunghissime ricerche sulla Milano che era tra il 79 e l'81 e anche sui dettagli storici e politici dell'epoca andando a leggere testimonianze di qualunque genere, passavo serata intera a sfogliare gli archivi del Corriere, ma come anche quelli di lotta continua e così via. Per quanto riguarda la documentazione su Milano in particolare, sulla città in sé, ho sfruttato più che altro uno sguardo che coltivo da sempre che si vede anche molto nel libro precedente, il mio amore per la città e il mio desiderio di descriverla, di trattarne alcuni ambienti, di avere uno sguardo su determinate sue dimensioni che magari vengono dimenticate a prima vista che cerco di portare avanti con una mia ricerca personale sul tessuto urbano. La domanda è che tutti gli iscrittori odiano, il prossimo? Allora, ancora è un po' prestino perché questo libro è uscito solo da tre settimane e sono, diciamo che devo riordinare le idee e riposarmi un po', però molto probabilmente se l'idea che ho verrà portata poi avanti effettivamente sarà ancora una storia ambientata a Milano, però non più una storia di giustizia, magistrati e intorni, ho chiuso con il dittico quello che avevo da dire al riguardo, sarà possibilmente una storia d'amore. In tutti e due i romanzi di Severio c'è questa cosa del ragionamento sulla difficoltà della giustizia, intesa come applicazione del diritto e come anedito qualcosa di oltre, di più significativo, soprattutto per chi subisce i torti peggiori. Mi chiedo se alla fine sei riuscito a cristallizzare un punto di vista su questa mega, gigantesca questione. Ma più che altro ho soltanto reso ancora più afrocini i dubbi, in un certo senso, che credo che sia poi il compito di un narratore, di uno scrittore di romanzi quello di raccontare delle vite, dei personaggi, delle storie e non di fornire delle verità o delle conclusive, soprattutto su dei temi che sono così spaventosamente complessi. Mi piace usare un'immagine, cioè quella che io come scrittore devo porgere il gomitolo della questione al lettore. I più hanno dato chiaramente possibile, in modo che i nodi si vedano tutti, ma poi aspetta al lettore cercare il bandolo della matassa e scioglierlo. Quello sarebbe molto presuntuoso da parte mia arrivare con una morale, una verità preconcetta. Non avrei scritto un romanzo, avrei scritto probabilmente un saggio o qualcosa del genere. Metà del libro è ambientato durante la guerra partigiana. È stato difficile per te calarti in quel periodo piuttosto brutto, oppure il fatto che fosse ambientato nei luoghi che conosci, nei quali hai passato l'infanzia, ti ha in qualche modo facilitato o, peggio ancora, invece ti ha messo i bastoni tra le ruote? È stato, da un lato, sicuramente molto delicato perché era uno sforzo di straniamento notevole, uno sforzo di medesimazione in vite che non ho mai vissuto, ma quello che mi ha aiutato molto, oltre senz'altro al piacere di raccontare delle zone, delle parti anche di campagne, dintorni della zona che sono cambiate moltissimo, ma per certi aspetti conservano ancora delle tracce di ciò che fu, mi ha aiutato molto a ascoltare delle fonti orali, in particolare i racconti di mio nonno, molto semplicemente, che mi ha trasmesso anche l'atmosfera che si viveva, i valori che si inseguivano e anche dei preziosi aneddoti che poi ho perfezionato studiando un paio di libri praticamente introvabili che parlano proprio della resistenza nel saronnese con una raccolta di storie e di testimonianze interessantissime di partigiani, starfette, ma anche di gente normale durante quell'epoca. Quindi è stato da un lato semplice e da un lato difficile, è stato entrambe le cose.